Tu hai davanti uno e lo puoi capire, gli puoi fare il giro psicologicamente intorno perché sei più articolato di lui, ti regoli su di lui, ma se tu hai davanti milioni che poi non hai veramente davanti perché non li puoi osservare, non hai un feedback immediato sulle loro reazioni, ma comunque tanto sono tutti diversi, non puoi prendere il rischio di dire o fare cose che saranno gradite solo ad alcuni. Se lo fai avrai una popolarità limitata, avrai potere per così dire approvazione da parte di solo alcuni, lo scopo non è mai quello che chi vuole avere potere, chi vuole avere popolarità, chi vuole incontrare nei mezzi di comunicazione non è quello di dire e fare cose in cui si riconosceranno quei pochi che gli somigliano, ma dire e fare cose in cui si riconosceranno tutti. Allora come si fa a dire e fare cose in cui si riconosceranno tutti? Se nell'interazione diretta rende molto essere qualcuno che capisce le persone e si diventa popolare presso le persone quando si è qualcuno che capisce le persone, perché comprendendole si fa in modo di essere come le persone vogliono che siamo per influenzarle. Ecco, nel caso della televisione, della comunicazione plurale, non è utile essere persone che capiscono la gente, ma essere persone che la gente capisce. Questo è molto importante per capire la televisione. Se tu sei uno che capisce gli altri, in televisione funzioni molto meno bene che non se sei uno che gli altri capiscono. La gente gradisce non che tu la capisca dal video, ma gradisce capirti, gradisce avere la sensazione che ti comprende senza residui, gradisce avere la sensazione che in te non ci sia qualcosa di inquietante che gli sfugge, gradisce non sentirsi inferiore a te anche. Quindi bisogna essere, per essere popolari, o comunque fingere di essere, una specie di comune denominatore. Bisogna fingere di contenere dentro di sé, oppure l'ideale è quando si è come quei personaggi che menzionavamo prima, semplici, semplici, semplici. Bisogna avere dentro di sé soltanto ciò che è in tutti gli altri, che non può mancare in nessuno perché è il minimo, è proprio la base dell'umano. Non avere niente che, non essendo in uno spettatore, gli impedirà, impedirà allo spettatore di capirti e ti farà sentire estraneo allo spettatore, alieno, gli darà disagio. Ecco, niente che possa provocare sospetto o disagio nei tuoi confronti, quindi, ripeto, niente che tu abbia e lo spettatore non ha. Il risultato qual è? È che se sei un fessacchione hai la strada spianata. Questa è la cosa, la prevalenza del cretino è il fatto che in televisione l'importante è che tutti ti capiscano. Allora, chi è colui che tutti capiscono? È colui che è più semplice di tutti, colui che contiene in sé solo cose che chiunque altro contiene, colui che non tira mai fuori niente da sé, che possa non essere compreso, inquietare, destare un qualche tipo di sospetto o di disagio. Queste cose le avevano già capite molto bene, alla metà del secolo scorso, del Novecento, i filosofi della scuola di Francoforte, quando ancora sembrava molto difficile capirle, perché i mezzi di comunicazione di massa erano ben lontani dal prendere le funzioni che hanno adesso, però, riflettendoci molto, per esempio Marcuse queste cose le diceva molto bene. E più tardi Hans Magnus Enzensberger, il filosofo tedesco contemporaneo, le ha dette molto bene proprio riguardo alla televisione, che ha avuto modo invece di analizzare molto bene. Un effetto collaterale di tutto questo è l'effetto dirompente che la prevalenza del cretino ha in clima di mondo televisivo, cioè di mondo influenzato dalla televisione, i risultati che questo provoca nel mondo della politica. Sulla politica la prevalenza del cretino indotta dai media ha un effetto dirompente. In un mondo in cui è centrale l'effetto della comunicazione mediatica, specialmente televisiva, abbiamo detto, si crea un effetto del cretino molto potenziato e questo effetto del cretino ha delle ricadute dirompenti sulla politica. Queste ricadute, questo effetto, si sostanziano nella sensazione che tutti hanno e che tutti ripetono continuamente che i politici siano peggiori di noi. Continuamente le persone sono preoccupate, sono divertite, si lamentano, constatano il fatto che i politici non appaiono essere i migliori fra noi, cioè quelli che ci guidano non è affatto evidente che siano scelti in base a loro essere più bravi. Se ci pensiamo, questo non è l'unico modo in cui le cose potrebbero essere, anzi sarebbe sperabile che chi ha più potere lo avesse perché è più bravo, perché è migliore, perché capisce molte più cose e quindi è più adatto a guidarci perché lui ci guiderà meglio di come ci guiderebbero gli altri. Bene, questa sensazione che i politici siano i migliori non ce l'ha proprio nessuno, anzi, ripeto, tipicamente abbiamo la sensazione opposta, che siano delle persone estremamente mediocre, estremamente criticabili da moltissimi punti di vista. Perché avviene questo? Avviene perché se vuoi essere eletto devi essere popolare, in quanto il meccanismo democratico si basa sul numero di voti e quindi più persone ti trovano apprezzabile, simpatico e meglio è, più probabilità è di essere eletto. Ora, oggi, per essere popolare bisogna esserlo essenzialmente in televisione. Un tempo i politici venivano conosciuti o direttamente nelle piazze, oppure attraverso un complesso meccanismo, una complessa rete di passaparola per cui la fama di una persona si trasmetteva di persona in persona e quindi se uno aveva la stima di alcuni, questi alcuni riferivano ad altri della cui stima godevano che quel politico era stimabile, eccetera, eccetera, e quindi era in una rete, in una sequenza di interazioni dirette che si trasmetteva la stima. Da quando ci sono i media, invece, la scelta del politico avviene direttamente perché lo vedi in televisione e quindi è il tipo di popolarità televisiva quella che serve, quella che va inseguita e che di fatto inseguono i politici. Se vuoi essere popolare è in tv che devi risultarlo e se vuoi ottenere il favore delle folle con la tv, come abbiamo detto, devi apparire mediocre, cioè devi dargli proprio l'impressione che ti capiscono, che si possono fidare di te, non devono avere l'impressione che ci siano in te dei pensieri che gli sfuggono. Quindi fortunato chi è già mediocre, fortunato chi è già una quasi nullità, perché non ha nessun bisogno di fingere, non ha nessun bisogno di studiare la sua immagine per risultare popolare e accedere alle stanze del potere. Chi invece ha delle capacità, chi ha dell'intelligenza, chi ha del senso estetico, deve nasconderli meglio che può. Questa è la consegna, se vuoi fare il politico. Quindi ci sono gestori dell'immagine, consulenti dell'immagine, che affiancano politici intelligenti, astuti, scafati, colti, preparati, e gli dicono, no, no, non dire mai una cosa così, da cui si vede che hai le idee molto chiare, non dire mai una cosa da cui si vede che sei colto, non usare queste parole che non tutti comprendono, perché se no non risulterai popolare, non sarai quel minimo comune denominatore semplicistico, semplificato, quella personcina da poco, che mette poi d'accordo la maggior parte delle persone. Quindi i politici tipicamente mandano dei messaggi banalissimi, siamo contro la distruzione della famiglia, oppure ci schieriamo a fianco dei più deboli, oppure condanniamo il terrorismo senza esitazioni. Questi sono i tipici messaggi dei politici, in che senso? Che sono cose che qualunque idiota saprebbe dire. È ovvio che siamo contro la distruzione della famiglia, che siamo contro il terrorismo, però evitano sempre i politici di dire come difenderanno la famiglia, di dire qualche cosa che sia già più intelligente, che sia già una scelta che risulta da un ragionamento. Ad esempio la difendiamo rendendo più flessibili le possibilità di aggregazione e non avendo solo il matrimonio indissolubile. Oppure invece no, la difendiamo perché crediamo nell'indissolubilità del legame proprio in quel modo. Appena tu ti schieri, appena fai vedere che c'hai un pensiero specifico tuo, ti alieni buona parte della popolarità possibile. Quindi essere semplici e dire sempre solo banalità è la ricetta per essere popolare in televisione e quindi poi per accedere anche al potere politico. Ecco dunque la saldatura tra i reality come il Grande Fratello, questi piccoli personaggi televisivi molto semplici, queste personcine molto banali che raggiungono un grande successo di pubblico, la saldatura tra questo mondo è quello dei politici. I politici che ci governano somigliano, in questa immagine di mediocrità, somigliano a questi personaggi. Dov'è la saldatura? È che entrambe le categorie attingono la loro popolarità in televisione. Dunque perché dovrebbero essere diversi? Se il mezzo attraverso cui si impongono all'attenzione di tutti è lo stesso, c'è lì la ragione per cui anche le modalità con cui si impongono all'attenzione e in qualche modo le caratteristiche principali che saltano all'occhio di queste persone siano le stesse. Personaggi dei reality e politici finiscono per essere accomunati dalla mediocrità che il mezzo televisivo in qualche modo obbliga ad avere. Questa riflessione che abbiamo fatto finora sulla, per così dire, utilità dell'essere semplici, dell'utilità dell'essere mediocri, era già in un vecchio articolo di Umberto Eco intitolato Fenomenologia di Mike Buongiorno, apparsa nel Diario Minimo. Come io stesso, Umberto Eco non aveva nessuna intenzione di dire qualcosa di dispregiativo nei confronti di Mike Buongiorno che è un vero colosso della televisione contemporanea, è una persona di straordinaria efficacia, però c'era una caratteristica che interessava Eco per diagnosticare le ragioni del successo straordinario che Mike Buongiorno aveva e ha sempre avuto. Diceva Eco che Buongiorno ha successo perché, guardandolo in televisione, nessuno si sente inferiore a lui. Queste sono le parole testuali che si trovano nell'articolo di Eco. Nessuno si sente inferiore a lui. Tutti, cioè, si sentono a proprio agio, si sentono gratificati dall'assistere alla conduzione dei programmi da parte di Mike Buongiorno perché non provano mai quella sgradevole sensazione che è quella di essere da meno, quella di essere inadeguati. Quindi il confronto che necessariamente ognuno di noi istituisce con chi ha di fronte, anche se ce lo ha di fronte mediaticamente, nel caso di Mike Buongiorno è sempre gratificante. E questa è l'arte di Mike Buongiorno, di riuscire a dare questa sensazione. Dice Eco, per esempio, che, diceva parlandone al presente, la cultura non lo interessa. Non interessa Mike Buongiorno. in decenni di contatto, di sfruttamento, di bagno nella cultura è riuscito a non imparare niente. Naturalmente Eco cercava anche un po' di far ridere. La cultura lo tocca, lui fa le viste, dà l'impressione che lo interessi solo come trucco per fare soldi facili attraverso i quiz. E questo spiega le sue gaff, che non è affatto detto che siano gaff da ignoranza reale, sono gaff da sapiente atteggiamento. In ogni caso, il risultato sarebbe lo stesso. Il famoso «Ai, ai, ai, signora Longari, lei mi casca sull'uccello». Oppure, una volta durante una puntata della Ruota della Fortuna, racconta Eco che disse al giudice Tortorella «Io so che sei dietro quel bancone a farti i solitari». Ecco, quest'immagine di sprovvedutezza che Mike Buongiorno dà, dicendo in pubblico delle cose che una persona attenta non direbbe, in realtà lo rende accetto perché tutti si sentono molto a proprio agio di fronte a una persona così. In una puntata di «Rischia tutto» c'era una domanda che riguardava Paolo VI e lui lesse Paolovi e invece di Paolo VI. E stupito chiese «Ma chi sarà questo signor Paolovi del quale non ho mai sentito parlare?» Ecco, questo lasciarsi andare a delle scene di mediocrità apparentemente è un difetto, invece, Ecco l'aveva capito molto bene nel 75, è proprio un modo attraverso cui si può diventare popolare. Appari mediocre e sarai popolare e in questa civiltà se sarai popolare avrai molto potere. Quindi, astraendo poi dai casi particolari, rimane questa parola d'ordine che ci serve a interpretare la prevalenza del cretino ed è «Se sei un fessacchione, hai la strada spianata». «Se sei un fessacchione,